Alessandro Sant'Angelo, direttore sportivo dell'Aurora Alto Casertano, una partita sofferta, però in un solo colpo avete ottenuto la qualificazione matematica playoff e soprattutto il primo posto. Sì, oggi sapevamo che venire qui a Boiano era difficilissimo, il Boiano esprime un ottimo calcio, anche prima della partita avevo fatto i complimenti a uno degli allenatori che ho affrontato in questi anni, secondo me uno dei migliori della categoria che è il mister Giuffre. Abbiamo fatto una gara discreta, abbiamo gestito la partita, fortunatamente sull'unica palla-golo che abbiamo avuto il nostro attaccante Panico, che ormai non si ferma mai, è riuscito a farci portare i tre punti a casa ed era quello che volevamo, abbiamo blindato il primo posto, adesso mercoledì abbiamo la partita di Termoli e poi riprenderemo dalla semifinale di andata fuori casa. Siete già qualificati ma sicuramente mercoledì a Termoli andrete con i crispi di portare a casa un'altra vittoria anche perché poi i playoff sono vicini. Tu hai giocato e sai bene che non ci si può assolutamente distrarre, soprattutto in una competizione come quest'anno. No, assolutamente. Penso che negli anni noi abbiamo giocato, nessuno vuole scendere in campo per perdere. Ti dico la verità, cercheremo una gestione perché fare tre partite in una settimana non è facile per tutti, avremo una gestione, abbiamo un'ora ampia, ma chi scenderà in campo a Termoli dare il 100% per portare la vittoria a casa. Ecco, ora parte anche una sfida playoff che poi azzera tutto quello che è stato fatto fino ad ora perché in quelle partite insomma conteranno gli episodi, conterà la tranquillità e questo insomma siete pronti per questo perché vi state preparando, diciamo non vi siete mai fermati voi dell'Aurora d'Alto Casertano. No, fortunatamente no, abbiamo avuto una programmazione quasi continua, abbiamo stoppato solo nel mese di dicembre che era il mese che ci dovevamo fermare. Questo nuovo programma di partite ci dice che anche conquistando la vetta come abbiamo fatto, conquistando tutte le vittorie, poi andando ad affrontare in semifinale le squadre abbiamo tutti le stesse possibilità di vincere il torneo. È un peccato perché sommando le partite precedenti con queste del nuovo format abbiamo incanalato l'undicesima vittoria consecutiva, però a noi non ci spaventa sapevamo che era così e dobbiamo vincerle tutte.